due amiche parlano allora come va ma il mio matrimonio non so che dire qualche volta va bene e qualche volta va male beh certo ma è così per tutti fa parte del gioco no boh è che qualche volta mio marito lo sento più vicino e qualche volta veramente lontano beh certo questo dipende anche dalle affinità con l'altra persona dai gusti propri dalle abitudini che si hanno sì infatti è proprio questione di gusti tu e tuo marito da questo punto di vista sembrate una coppia veramente ideale grazie no davvero avete proprio gli stessi gusti questa è una cosa che si acquisisce col tempo dopo anni che si vive assieme pensa che i primi anni non era così certo l'affinità viene fuori piano piano no è che ci sono voluti almeno dieci anni perché mio marito abbandonasse i suoi gusti e seguisse i miei grazie a tutti